E ora parliamo della squadra primavera del Parma che ha vinto a Mestre contro il Venezia nel recupero della nonna giornata d'andata conquistando il titolo seppur platonico di campione d'inverno di primavera 2 con una giornata ad anticipo. È finita 1-0 per il giallo-blu grazie al gol di Giovanni Vallica a metà del primo tempo con un gran tiro al volo da fuori area. La squadra di Mister Beggi ora ha 6 punti in più di Monza e Brescia, 7 sull'Udinese che è stata sconfitta dall'Alessandria.